Dal libro dell'Apocatrice di San Giovanni Apostolo Giovanni alle sette chiese che sono in Assa Grazie a voi che pace da colui che è, che era e che tiene dai sette spiriti che stanno davanti al suo trono e da Gesù Cristo, il testimone fedele, il primo genito dei morti e il principe dei re della terra a colui che ci ama e ci ha liberato dai nostri peccati con il suo sangue che ha fatto di noi un regno di sacerdoti per il suo Dio e il Padre a lui la gloria e la potenza nei secoli dei secoli Amo Ecco, viene i suoi nubi e ognuno vedrà anche quelli che lo travissero e tutte le nazioni della terra si batteranno per lui in ferro Sì, Amen Io sono l'Alfa e l'Omega, dice il Signore Dio colui che è, che era e che viene, l'Onnipotente All'Angelo della Chiesa di Eveso scrivi Così parla colui che tiene le sette stelle nella sua destra e cammina in mezzo ai sette candelabri d'oro Conosco le tue opere, la tua fetica e la tua costanza per cui non puoi sopportare i cattivi li hai messi alla prova quelli che si dicono apostoli che non lo sono e li hai trovati bugiati Sei costante e hai molto sopportato per il mio nome senza stancarti Ho però da imponerarti che ne hai abbandonato il tuo amore di un tempo Ricorda dunque da dove sei cattuto Raventi e combi le opere di prima Se non ti ravvederai verrò da te e rimuoverò il tuo candelabro dal suo posto Sia lodato, adorato e ringraziato ogni momento Ecco, questa sera volgiamo il nostro sguardo anzitutto sul mistero grande del sangue di Gesù effuso come ci ricorda l'incipit del libro dell'Apocalisse scritto da un grande apostolo del sangue di Gesù che è stato San Giovanni Apostolo San Giovanni Apostolo era presente l'unico degli apostoli alla scena della crocifissione il momento in cui il sangue di Gesù realmente fluiva, usciva, sgorgava copioso fino all'ultima stilla fino all'ultima luce San Giovanni ha visto anche il gesto estremo della trafittura del costato di Gesù da cui fuori uscirono le ultime stille di sangue misto ad acqua quindi un bagno che egli stesso poi spiegò qui ci ha liberati dai nostri peccati con il suo sangue e semplicitamente e nelle sue lettere il sangue di Gesù ci purifica da ogni peccato ci lava da ogni peccato come canteremo poi nel bellissimo canto che seguirà il tempo della meditazione e del silenzio il mistero del sangue preziosissimo di Gesù è anzitutto da da contemplare io confesso candidamente insomma serenamente che tuttora oggi quando penso quando penso a questo prezzo per la mia redenzione che è stato versato da Gesù rimango senza parole e mi chiedo Gesù mio ma per togliere i peccati che anche io ho commesso perché anche io ero presente sul Golgoth anche io insomma la causa della morte ci voleva questo bagno di sangue questo lavacro insomma un lavacro che non è un fatto simbolico insomma Gesù ha sofferto è morto dissanguato insomma lo sappiamo si rimane semplicemente a primo avviso senza parole nella lettera agli ebrei tradizionalmente attribuita a San Paolo anche se oggi questa attribuzione è messa in discussione va bene non importa ma è il caso adesso di entrare in queste qui squiglie ecco filologiche e nella lettera agli ebrei c'è scritto che tutti i sacrifici dell'Antico Testamento noi adesso non abbiamo idea non ci sappiamo rappresentare no ma venivano continuamente nel Tempio di Gerusalemme immolati proprio quindi proprio sgozzati ecco agnelli capri vuoi cioè era raccontare i testimoni che quando uno entrava nel Tempio di Gerusalemme si sentiva odore di sangue perché i sacrifici rituali dell'Antico Testamento erano tutti i guenti la Pasqua ebraica comportava l'immolazione dell'agnello quindi l'aspersione in memoria del passaggio del Mar Rosso degli stipidi della casa con il sangue di quell'agnello no e nella lettera agli ebrei si legge tutto questo era una prefigurazione cioè l'agnello è simbolo della mansuetudine dell'innocenza noi chiamiamo Gesù Agnello di Dio nell'Antico Testamento gli agnelli venivano sgozzati il sangue lo versavano morivano in questo stato di immolazione e Gesù ha vissuto questo nella sua persona cioè questo è la redenzione ecco dicono i teologi insegna anche la Chiesa lenticamente la redenzione etimologicamente significa riscatto cioè riscatto significa che è come quando c'è un sequestro di persona c'è un sequestro di persona che è prigioniera se la vuoi o quella persona sarà ammazzata oppure bisogna pagare il prezzo del riscatto perché per le cose umane sono soldi se paghi il prezzo del riscatto quella persona sarà libera San Paolo nelle sue lettere quando parla della redenzione dà proprio questa immagine noi eravamo prigionieri di cosa del peccato della morte e del Signore della morte che è il diavolo che per mezzo di questa trappola ecco portarci lontano dalla volontà di Dio ci aveva messo le grinfie addosso e quelle grinfie non solo che lui non le toglie ma noi non potevamo da noi stessi togliercene di dosso è stato necessario che il Figlio di Dio fattosi uomo al Padre versasse il prezzo del nostro riscatto cioè tutto il suo sangue noi a questo dobbiamo pensarci perché se ci pensassimo e soprattutto se ci credessimo dobbiamo sempre ricordare che la stragrande maggioranza della problematica chiamiamola così della nostra vita cristiana riguarda la fede cioè io ci credo veramente alle verità di fede questa sera stiamo meditando sul sangue di Gesù e che esso è il prezzo del nostro riscatto questo è insegnato da tutta la liberazione pubblica dalla Bibbia e autenticamente dalla Chiesa su questo non c'è dubbio quando io consagro il calice dico questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna realza versato per voi e per tutti in revisione dei peccati cioè se quel sangue non fosse stato versato i nostri peccati non sarebbero stati rimessi e noi saremmo tutti condannati all'inferno senza nessuna possibilità di appello non c'è voi capite che se uno ci credesse veramente a questo capite che dalla riflessione su questo se ne innescano un'altra montagna la prima ma che cosa brutta può essere è grave può essere quel peccato ma come quel peccato quella bestemmia che mi è uscita in un momento di rabbia quel latte impuro che ho commesso in un momento di debolezza quella volta che non mi andavo ad andare a messa perché ero stanco morto e dico ma che sarà mai è una cosa così grave per toglierla il figlio di Dio fatto uomo ha dovuto fare una morte orrenda versando fino all'ultima stilla di sangue ma davvero ma che sarà allora questa cosa che gli uomini commettono con tanta leggerezza ci stanno i grandi peccatori che passano la vita ad accumulare peccati mortali su peccati mortali in continuazione peccano all'impazzata così grave che Gesù deve versare tutto quanto il sangue per lavarmi per togliermi quando mi vado a confessare quando vediamo il sacerdote che alza la mano pronunciando la formula dell'assoluzione noi dobbiamo pensare che è come se in quel momento prendesse l'aspersorio che è quello strumento che il sacerdote usa per appunto spruzzare l'acqua santa ecco dobbiamo pensare che ci avesse l'aspersorio in mano lo mette dentro il costato di Gesù lo intride di sangue e quando il Signore ti assolgo i peccati nel nome del Santo Padre del Signore e lo Spirito Santo spruzza ci asperge siamo asperzi con il sangue di Cristo non è un scherzo questo non è un gioco non è un modo di dire è la verità domani passeggeriamo qui la festa in diocesi la festa di Santa Maria Coretti per me è sempre un po' strano dire che è la festa perché a Latina dove sono nato è solennità perché Santa Maria Coretti oltre che la patrona di Latina è anche la patrona dell'Agro Montino quindi domani è la massima festa liturgica qui non siamo nel territorio di Latina siamo nella Polonia di Senze quindi nella diocesi di Latina quindi qui è festa con solennità ma Santa Maria Coretti ci credeva talmente tanto che per evitare di fare un peccato mortale tra l'altro come dire subito come conseguenza di una violenza ha sparso il suo dei sangue si è fatto ammazzare con 14 coltellate chi farebbe una cosa di questo genere oggi cioè consapevole che se avesse ceduto si rendeva rea responsabile del sangue di Cristo cioè se io faccio un peccato mortale e non me ne pento quando mi muoio la Santissima Trinità mi dirà guarda che tu sei responsabile del sangue versato dal figlio di Dio tu gliel'hai tolto dalle vene cioè capite è così non è uno scherzo un conto che noi ci apriamo al pentimento e alla misericordia Gesù è ben felice di lavarci nel suo sangue perché l'ha fatto per questo un conto che l'uomo lo disprezza che sputa sopra e continua a peccare all'impazzata e si è presente in questo modo davanti alla Santissima Trinità è molto diverso quindi sono tante le riflessioni che innesta questa meditazione questa concentrazione del sangue di Gesù con la Chiesa insegna che prendere la comunione sotto le due specie quindi sentendo certamente il sapore sentiamo il sapore della specie del vino ma ricordiamo che per esempio San Filippo Neri ci sono stati dei santi sacerdoti che hanno avuto il dono straordinario di sentire il sapore del sangue cioè quando San Filippo Neri celebrava la messa metteva un cartello fuori dalla porta perché era molto ricercato soprattutto un professore il padre sta celebrando io l'ho vista la stanza dove celebrava San Filippo Neri lui stava all'interno tra un'ora e mezza e due ore celebrando da solo senza prediche senza cose perché quando faceva la comunione ci metteva almeno mezz'ora tre quarti d'ora perché per consumare il vino consagrato del canice ci metteva non si sa quanto tempo perché lui sentiva il sapore del sangue di Cristo proprio il sapore del sangue ovviamente un sapore divino un sapore bellissimo un sapore mistico insomma che gli dava gioie infinite ma lui sentiva anche sensibilmente che dietro appunto quelle specie che al palato comune continuano ad avere il sapore del vino c'è realmente il sangue di Gesù non è uno scherzo è ciò che ci ha lavato dai nostri peccati che ogni volta che noi celebriamo la santa missa c'è uno spargimento di sangue perché il pane e il vino vengono consagrati distinti e separati uno dall'altro quindi lo sangue di Gesù si trova sull'altare in stato di separazione dal suo corpo come quando Gesù stava in croce perché sull'altare si rinnova veramente il sacrificio della croce cioè c'è sangue sparso per la nostra salvezza non è un gioco anche questo voi capite quanto purtroppo oggi la coscienza media dei fedeli non è neanche la più palida idea di queste cose ma neanche la sogna neanche la notte quindi innanzitutto quindi bisogna conoscere queste cose c'è bisogno attraverso la meditazione di riprenderne coscienza dopo una volta che l'ho conosciuto c'è il secondo passaggio ma io ci credo veramente che le cose stanno realmente così no? è chiaro che se io credo che veramente che un solo peccato grave è causa della morte di Gesù ma io mi faccio ammazzare piuttosto che fare un peccato grave come ha fatto Santa Maria di Moretti piuttosto che fare un peccato mortale mi faccio ammazzare io ma non lo faccio quindi capiamo perché è così importante approfondire e crescere nella fede è perché sono le cose che crediamo profondamente che orientano poi il nostro agire ecco dopo questa introduzione a San Giovanni bellissimo nell'Avocalisse lo vedremo anche se ti vuole giovedì prossimo che sarà l'ultima adorazione prima della pausa estiva ci sono le lettere alle sette chiese dell'Asia minore che sono bellissime in questa prima alla chiesa di Efeso Gesù dice delle cose bellissime chiaramente possiamo e dobbiamo confrontarci dice guarda io conosco le tue opere la tua fatica e la tua costanza per cui non puoi sopportare i cattivi i cattivi sono quelli che ci portano lontani da Gesù anche sotto apparenze buone e noi certamente dobbiamo pregare per loro noi certamente dobbiamo amarli nello spirito evangelico ma non dobbiamo seguirli non dobbiamo lasciarci ammaliare non dobbiamo lasciarci suatere dalla loro malizia dice sei costante e molto sopportato per il mio nome senza stancarti questo ci ricorda che la vita cristiana comporta necessariamente un peso un peso derivante in parte dalle croci che il nostro Signore ci chiede di portare ma in parte anche dall'ostilità che oggi è fortemente rinnovata da parte delle persone che disprezzano la fede o che si burlano a volte addirittura del cristianesimo e che cominciano a deridere cioè se una persona si viene a sapere che fa a messa o peggio ancora che si confessa o peggio ancora che fa a messa un po' più spesso che la domenica peggio ancora dice il rosario ehi va all'adorazione mamma mia guarda succede il fin il mondo succede si va da quando qualche sorrisino ironico di compassione dice questo che si è proprio mangiato il cervello al gatto poveraccio ecco ha delle dimostrazia qualche volta anche qualche insulto qualche umiliazione qualche disprezzo queste cose dobbiamo aspettarcele come normali è normalissimo che chi sta lontano regisca in questo mondo no? ecco quindi questa è una bella chiesa la chiesa di Efeso dice però Gesù ha una cosa importante con cui chiudiamo da rimproverare hai abbandonato il tuo amore di un tempo quindi dà proprio l'idea di una comunità come dire forte nel senso che decisa nella difesa di alcuni valori ecco però quello che Gesù vuole anzi è un cuore diceva Santa Teresa di Gesù il bambino bruciato dall'amore il sangue che Gesù aveva versato è effuso per noi l'è effuso per amore e sono per quello e che cosa vuole in cambio Gesù? Gesù vuole il nostro amore non c'è stato dopo e che significa amare Gesù? l'amore è una cosa che si insegna l'amore non è una cosa che si insegna quando due persone sono innamorate non c'è bisogno che qualcuno gli insegni l'amore non lo sanno come ci si dimostra l'affetto come ci si ama ecco Gesù vuole dei cuori che li conoscano che accorgano il suo amore e che lo ricambino in amore perché tutta la vita cristiana non è altro che questo anzitutto accogliere l'amore di Gesù viverlo e ricambiarlo a lui e al prossimo questo viene prima di ogni altra cosa e se questo c'è tutte le altre cose ci stanno se questo non c'è ecco si può a volte come dire cadere in un in un cristianesimo diciamo così della legge dell'osservanza cioè io sono rigio sono tu sono fedelissimo però non si percepisce quel clima quell'ambiente divino che è l'ambiente dell'amore che è quello primo che maggiormente gradisce e desidera Gesù e secondo quello che più attrae le persone e su cui dobbiamo sempre fare attenzione perché chi non ama veramente resiste per un po' come dire sulla base di convinzioni fortezza valori senso del dovere eccetera ma c'è il pericolo che presuntare di coni e comunque si priva di quell'aspetto fondamentale ecco della vita cristiana che è il conoscere riconoscere e l'accogliere l'amore di Gesù ricambiarlo con tutto noi stessi con un amore preferenziale di sopra di ogni altra cosa e viverlo perché con lo stesso amore che riceviamo da lui lui vuole che lo doniamo ai nostri fratelli salutato donato ringraziato di tutto grazie 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 grazie